Musica Buongiorno signora, a ben servirla Finalmente Ma io avevo bisogno di un idraulico A ben servirla anche sul retro signora Come mi gira casca sempre bene Dove è il guasto? Di là, venga Venga, venga C'è il rubinetto del lavabo che non butta Venga E' completamente secco Strano, proviamo Andiamo a accendere la luce, eh Queste case moderne Confusionari E ora come faccio? E metto la schiavania a posto del lavabo E il lavabo sotto la luce Ma faccia qualche cosa a lei che è un elettroidraulico Faccia qualcosa, quello che faccia, una parola Il telefono Sì, allora si permette che sono occupato, eh Chi? E' per lei una chiamata urgente Vengo Vengo? Riloghiamo, signora Dunque se noi accendiamo la luce E giù l'acqua E' giù l'acqua No Se invece noi apriamo il lavabo con detersivo e volendo con candeggina non si strizza asciuga rapidamente in casa e non si deve stirare così la maglia Movil sarà sempre candida e perfetta la maglieria Movil è antireumatica in vendita a prezzi controllati nei negozi che spongono questa insegna Movil è un prodotto Montecatini